Sono 24 i candidati consiglieri presenti alle prossime amministrative dal Movimento 5 Stelle di Fano che affiancheranno la candidata sindaca Marta Ruggeri durante tutta la campagna elettorale. I 24 consiglieri sono risultati idoni secondo le regole interne a livello nazionale del Movimento. Tre vari membri ufficializzati e presentati dalla candidata sindaca Spicca Mauro Arcangeloni che da anni ha supportato le idee del Movimento. Filippo Aguzzi, 36enne, padre di famiglia, spera di avere l'occasione di contribuire alla realizzazione del progetto Fano Sicura di Sé, in particolare per quanto riguarda le tante misure per la famiglia previste nel programma. Poi ancora Antonio Di Benedetto, ex sotto ufficiale della Guardia di Finanza, da sempre ha condiviso le idee a difesa della comunità e non negli interessi del singolo. Benedetta Dini, laureata in ostetricia e psicologia, candidata in difesa della sanità pubblica e riqualificazione dell'ospedale di Fano. Chiara Falcioni, impiegata a livello ambientale invece, sostiene che il programma del Movimento pone un'attenzione particolare alle problematiche ambientali e salutari. Dante Leopardi, giornalista di professione invece, sostiene il Movimento in quanto condivide i principi fondamentali, ritenendo l'unica forza politica in grado di ripristinare una giusta legalità democratica. Sono tutti attivisti del Movimento 5 Stelle, alcuni che si sono avvicinati a noi più di dieci anni fa, altri più recentemente, però sono tutte persone che ci hanno aiutato anche adesso che siamo stati in tre consiglieri comunali d'opposizione nel nostro lavoro, quindi dallo studiare documenti, scrivere emozioni, produrre interrogazioni, al farsi chilometri di volantinaggio. Per noi è molto importante il programma, quindi ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo cominciato più di un anno fa, ormai lo possiamo dire, aprendoci alla città, nel senso che il nostro è un programma partecipato anche dalle realtà economiche e sociali cittadine. Capolista del Movimento 5 Stelle di Fano invece è il 24enne Tommaso Mazzanti. In questi cinque anni ho affiancato i consiglieri, direi quasi quotidianamente, con lo studio dei documenti, con l'elaborazione della linea politica, finché poi sono diventato collaboratore parlamentare. E quindi credo che adesso sia giunto il momento appunto di metterci la faccia e di essere capolista di questi 24 candidati che corrono per una Fano più bella e più vivibile. Il Movimento 5 Stelle di Fano, oltre ad essere stato una sentinella molto efficace ed efficiente in questi cinque anni sull'operato di questa maggioranza, è stata anche una fucina instancabile di proposte.